Mi fai fare certe figuracce? Sì, sì, c'è sempre da discutere sul presso. Sì, le figuracce, ma sai quei sentiti sul presso, quei su Fender, ma non ti insegni a niente. Il 13 agosto al Teatro Emanuele Emanuelli andrà in scena la compagnia teatrale Il Guitto. Con quale spettacolo? Il lavoro si intitola Via Noltre a Kermincia, fatto appositamente qui per Tre Ponti. Il titolo è sicuramente azzeccatissimo, visto il periodo, vista la ripresa e la voglia di continuare a riprendere e divertirsi. Esatto, è proprio questo. Uno dei significati del titolo è questo. L'altro è anche perché è un lavoro ispirato a spettacoli, a trasmissioni televisive, quindi è un invito a vedere una trasmissione televisiva. Le risate sono garantite? Sì, sì, sicuramente. È uno spettacolo comico, come un po' tutti gli spettacoli del Guitto, che sicuramente farà divertire. Bene, quindi continuerete a fare le prove ad oltranza fino alla fatidica data? Sì, facciamo delle prove separate, perché questo lavoro è diviso in tanti sketch, in modo da evitare gli assembramenti. Abbiamo dovuto fare le prove così, proprio per i limiti imposti dal Covid. Sì, sì, continueremo le prove fino al debutto. Quindi, durante il debutto sarà emozionante anche per voi ritrovarvi sul palco tutti insieme, dopo che avete recitato e fatto le prove separatamente? Esatto, sicuramente sarà così, anche perché poi siamo fermi da un anno e mezzo, riprendere sarà un momento emozionante, sicuramente. L'ora X, adesso! Calmi, 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 da quanti ha comprato il Royce ai numeri romani? Tutte le volte le dieci fa sta lagna. Ehi, 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 è scattata l'ora X!